Morti bianche, lavoro nero ancora per quanto riguarda l'edilizia, un problema che ancora non trova una diminuzione, ma purtroppo ancora si deve fare tanto per risolverlo. Si deve fare tanto, è proprio per questo che noi oggi sottoscriviamo questo protocollo. Noi ci stiamo lavorando da più di un anno su questo protocollo, con tutti i varienti, quindi l'INAIL, il Servizio Prevenzione della ASL, la Direzione Territoriale del Lavoro. Ci stiamo lavorando proprio per definire delle sinergie operative per la formazione e informazione degli imprenditori e dei lavoratori, anche con la collaborazione dei sindacati e dei lavoratori e l'istituzione di un osservatorio permanente per analizzare, elaborare i dati, di prendere eventualmente delle iniziative adeguate e, con l'ausilio di tutti gli enti, a riferire semestralmente in seno alla conferenza provinciale permanente, coordinata dal prefetto. Quali sono i problemi più evidenti che si manifestano nel mantenere sotto controllo una situazione che purtroppo ha delle conseguenze nefaste? Il problema è coordinare le azioni dei vari enti. Questa è una cosa molto importante. Ecco perché si è arrivati alla definizione di questo protocollo. È coordinare le azioni dei vari enti con le loro rispettive competenze, proprio per mettere in atto delle strategie efficaci, proprio per contrastare questo fenomeno. E l'attività di informazione e formazione è estremamente importante. Quali sono i dati, diciamo, gli ultimi rilevati relativi alle morti bianche e agli incidenti sul lavoro? Noi abbiamo i dati a livello nazionale del 2017, perché a livello provinciale abbiamo quelli del 2016 e non abbiamo ancora ufficializzati quelli del 2017 da parte dell'Inail. Quindi i dati del 2017 a livello nazionale vedono una lieve flessione delle denunce sugli incidenti sul lavoro, con invece un lieve incremento degli incidenti mortali. Una delle zone più colpite, lo sapete, è stata anche l'Abruzzo, perché nel 2017 ci sono stati i casi rilevanti di Rigopiano e di Campo Felice che hanno portato a più 15 persone i morti sul lavoro per quanto riguarda il territorio della nostra regione.